Più cautela nelle compravendite e disponibilità ridotta di immobili destinati ad affitti lunghi. E questa è la fotografia che emerge dalla dodicesima edizione dell'osservatorio immobiliare della provincia di Pesaro Urbino. Volume presentato oggi dalla FIAIP, Federazione Italiana, agenti immobiliari professionali nella sala convegni di Confindustria Pesaro Urbino. Agenti immobiliari, associazioni di categoria e istituzioni riunite per monitorare cifre e andamento del mercato immobiliare in provincia e quartiere per quartiere per quel che riguarda i principali poli urbani di Pesaro e Fano. Dal post-covid fino ai primi del 2023 vedevamo un numero di compravendite abbastanza positivo. Vediamo chiaramente che i prezzi del mercato in questo momento sulle zone semicentrali per immobili che hanno scoperti, terrazzi, comunque hanno accessori, vediamo che i prezzi si sono mantenuti e anche qualcosina forse hanno leggermente aumentato. Per quello che riguarda invece zone semicentrali un po' più lontane dal centro e con meno accessori, ovviamente vediamo una flessione. Sicuramente troveremo nei prossimi mesi o comunque il prossimo anno, purtroppo vedendo un po' il trend e quello che riguarda il trend nazionale, che è un meno 15-20% sul numero di transazioni, quindi di compravendite, vedremo sicuramente un calo, purtroppo anche secondo me nella nostra provincia. Non sarà lo stesso, però i dati portano un po' a questo, dovuto un po' legato anche all'aumento dei materiali con il 110% per quello che riguarda le ristrutturazioni e quello che riguarda anche un po' i tassi di interesse dei mutui che si sono alzati e quindi c'è incertezza nei tassi, per cui la gente ancora al momento attende, guarda e valuta con più attenzione l'acquisto di casa. Su Pesaro i prezzi al metro quadrato restano strettamente vincolati alle specifiche aree immobiliari. Diciamo che può andare da Pantano, le zone semicentrali possono andare intorno a un ristrutturato nuovo, potrebbe andare intorno ai 3.200-3.300 euro, dovuto anche un po' all'aumento dei materiali per quello che riguarda le nuove ristrutturazioni, quindi le nuove costruzioni adesso costano di più realizzarle, per cui aumentano anche i prezzi, o comunque vediamo un ristrutturato che può andare intorno ai 2.900-3.000 euro, dipende. In centro storico arriviamo ai 3.500-4.000 euro, sempre parliamo di nuovo, o zone come zone mare che andiamo anche a 6.000 euro, 5.500, dipende un po' dalle zone. A Pesaro emerge comunque una sempre più evidente carenza di strutture abitative disponibili rispetto all'effettiva domanda, soprattutto in termini di affitti. Sicuramente gli immobili in questo momento non ce ne sono tantissimi, purtroppo abbiamo difficoltà a reperire immobili in vendita, comunque ce ne sono sempre di meno, la gente al momento, come dicevamo prima, nei momenti di incertezza aspetta, quindi prima di mettere in vendita gli immobili, quindi ci ragiona di più rispetto a quello che era un po' la voglia di cambiamento post-Covid. Sicuramente questo ce lo troviamo più per quanto riguarda gli affitti, gli affitti invece stanno subendo un'grandissima problematica perché ci sono difficoltà a trovare appartamenti in affitto per lunghi periodi, quindi per affitti 3 anni più 2 che sono i concordati oppure affitti 4 più 4 che sono a canone libero. Questo sicuramente è il momento dove ci troviamo più difficoltà perché vediamo che anche l'amministrazione pubblica ci contatta e anche loro hanno difficoltà a reperire questi appartamenti. Un po' dovuto anche poi a Pesaro 2024, dovuto anche al blocco sfratti che durante il Covid c'è stato, quindi le persone in questo momento hanno paura ad affittare e hanno più convenienza ad affittare per brevi periodi piuttosto che lunghi periodi.